La busta estratta, busta 3, è quella della preghiera, ma sono contento di parlare della preghiera perché l'altra mattina ho sentito alle 7 una di voi, la voce, che citava alcune parole di Monsignor Tonino Bello su di voi, poi mi hanno detto che sono un po' le ultime che ha detto che era mai alla fine della sua esistenza e parlava della vostra, rimanete allegri, la vostra vita eccetera, ma dentro di me dicevo manca un pezzo, manca un pezzo, in quello che captavo, in quel poco che riuscivo a capire, perché dicevo ma non ha fatto cenno alla preghiera, voi pregate, voi pregate, voi pregate e questa è la forza della vostra associazione, della vostra famiglia, voi pregate, pregate molto, io sono un fautore della quantità sulla qualità, io parlo sempre del dovere, del bisogno di pregare molto, a volte mi dicono, ma avrete sentito anche voi, meglio pregare poco e bene, voi citano la frase di Gesù, non moltiplicate le parole come fanno i farisei, che credono di essere ascoltati a forza di parole, io dico va bene, allora prendiamo questa frase, meglio pregare poco e bene, dici così? Guardiamola, dividiamo la frase in due, meglio pregare poco, già suona male, hai trovato mai nel Vangelo che Gesù dica meglio pregare poco, questa parola precisa, qualcuno, qualche santo, qualche rivelazione, eccetera, no, non esiste, prendiamo la seconda, meglio pregare bene, alci la mano chi dice di pregare bene, chi sa di pregare bene, tu che mi hai appena detto meglio pregare poco e bene, preghi bene? Ma veramente non lo so, e allora cosa dici? Io non so se posso pregare bene, anche San Paolo lo dice, non sappiamo nemmeno che cosa sia conveniente domandare, San Paolo stesso non sapeva pregare bene, figurati tu, io so che se posso pregare molto, posso pregare molto, questo lo so, sul molto posso agire, sul bene si farà lo Spirito Santo, non lo so, quando io vado a Meggiugorje o mi capita ogni tanto di accompagnare della gente a Meggiugorje, sapete cosa faccio? Li massacro, li faccio pregare in continuazione, da quando saliamo sul pullman a quando arriviamo là, un rosario dietro l'altro, altre invocazioni, il breviario in tutte le maniere, pregare molto, perché poi su questo tessuto del pregare molto, la Madonna farà quello che deve fare, lo Spirito farà quello che deve fare, però mi trova in preghiera, e la gente si sfinisce, e io dico bene, bene che tutto sfinisca, proprio perché quando si prega molto agisce davvero l'opera di Dio. Il pregare molto, usa l'immagine che aveva anche Michelangelo, cioè o meglio, quando Michelangelo faceva le statue, io sono vissuto a Settignano, dove per un tot numero di anni ha vissuto anche Michelangelo, che era un toscanaccio terribile, era anche un discreto cristiano, ma aveva un carattere impossibile. Comunque di fatto Michelangelo si faceva portare la creta dal fiume Arno per fare tutte le sue statue, feceva di marmo, intendiamoci, ma le elaborava attraverso questa. E aveva un garzone, il quale, poveraccio, doveva andare con la carriola fino in fondo all'Arno e prendere su la creta. Allora, uso queste immagini, questa è la preghiera. Noi portiamo la creta, andiamo giù nel fiume, facciamo fatica, prendiamo la creta. Quantità, 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 quantità. E poi lo Spirito Santo sono le mani, e io se mi metto a fare una statua, viene fuori uno sgorbio, e se la fa Michelangelo, viene un'altra cosa. Bene, lo Spirito Santo fa la statua, perfetta, meravigliosa, bellissima, è la preghiera. Quindi, però senza la mia creta, senza la mia sostanza, che cosa fa? Niente, niente. Quindi io gli porto della quantità, accordo? Quindi spezzo una lancia a favore della quantità. Preghiera notturna, poi, molto bella. I padri del deserto dicevano che la preghiera notturna è la vittoria contro la morte, perché la notte, il sonno soprattutto, il sonno è simbolo della morte. Per cui chi si strappa violentemente dal sonno, e vi assicuro, sapete meglio di me, quando suona la sveglia alle 3-10, la violenza, ecco, uno si strappa, e dicevano i padri, è la vittoria sulla morte, è l'attesa della sua venuta definitiva, è il segno del Cristo risorto. Quindi, gioia mia è Cristo risorto. Quindi ditevelo quando vi alzate in piena notte, uno dice, ma si derba, che fatica. Sì, è il segno della risurrezione. Gioia mia è Cristo risorto. Poi di notte il nostro Signore ci sente meglio, perché c'è meno confusione, no? Meno gente che parla, per cui ci sente meglio. Detto questo, pregare non è facile. La preghiera è anche uno sforzo, perché se fosse facile la farebbero tutti. Le cose facili le fanno tutti, non c'è bisogno neanche di parlarne. Invece la preghiera è uno sforzo, perché devo uscire da me stesso. Cioè, in altri termini, è un incontro con il Signore, ma in un terreno sconosciuto. In me e in Lui, ma non mi viene spontanea, naturale. E questo lo capisco, perché anche nell'Esodo, Mosè dice, non si può vedere Dio e rimanere vivi. È una piccola morte, la preghiera è una piccola morte. Perché devo uscire dal mio io, in cui mi possiedo. Devo uscire di me. E chi di noi muore volentieri. Una volta ho messo i racconti di Cassidim, non so se li conoscete, bellissimi. Un rabbino, quando andava a pregare in casa sua, aveva la stanza della preghiera. Quando doveva pregare, chiamava tutti, la moglie, i figli, saluti, baci, abbracci. Una sorta di addio. La gente dice, ma dove vai? A pregare. Beh, c'è bisogno di fare tutto questo. Eh sì, io non so quando tornerò. E se tornerò. Entrava in un terreno, andava da Dio. Tornerai? Come tornerai? Quando tornerai? Beh, questo dava un bel senso di preghiera, no? Uno che esce di sé ed entra in questo terreno. Ogni tanto noi dobbiamo rivedere questo nostro rapporto con la preghiera. Perché non è affatto scontato. Una volta uno dei nostri fratelli, tale Doroteo, che ha moltiplicato le oste a Ragusa, se volete, dopo ve lo racconto. E questo fratello, che adesso è uno dei tre, che è in Australia, aveva, lo disse a tavola, perché non è un segreto, aveva un problema suo personale, un pensiero che non gli andava via. E lui disse, vai a parlare col padre. Fate così anche voi, no? Vai a parlare col padre. Il padre Brassotti, il padre Pancrasi. Vai a parlare con lui. Lui andò, disse, senta padre, ho sto problema qui, sto pensiero che non mi va via, eccetera. Ah, va bene. Come sei messo con il Signore? Ah, bene. Mi so bene. Però sto pensiero qui mi tormenta, non riesco a mandarlo via. Come sei messo con il Signore? Ah, bene, mi sembra. E se sono con Lui. Ma, nonostante questo, ho questo, questo tarlo qui, cosa devo fare? Come sei messo con il Signore? Beh, basta. Basta. Dice, la terza volta, mi ami tu più di costoro. Però fu questo l'insegnamento. Che il problema, sì, sì, c'è, ma voglio sapere come sei messo con il nostro Signore. Come va con Lui? Questo è il punto fondamentale. Quindi ogni tanto, anche voi, se avete problemi di ogni genere e specie, tornate alla prima domanda. Come sto con il nostro Signore Gesù Cristo? Come sono messo con Lui? Com'è la mia vita di preghiera? Se va in crisi il mio rapporto con Gesù, va in crisi tutto. Non respiriamo più, non respiriamo più. Don Divo Barzotti, quando faceva le sue istruzioni sulla preghiera, sono raccolte in questo libretto, ci sono anche altri temi, ma a un certo punto qui parla lungamente della vita di orazione, noi siamo una comunità monastica, distingue la preghiera in due tipi di preghiera. Preghiera virtuale e preghiera attuale. Adesso dire preghiera virtuale col mondo del computer telematica sembra di dire preghiera finta, no? Adesso spieghiamoci. Lui chiamava preghiera virtuale anche preghiera continua. Cosa vuol dire? È quella preghiera non fatta nel momento in cui esprimo delle parole, dico delle cose. È un atteggiamento interiore, un'attenzione pacata alla divina presenza. Anche mentre faccio altre cose. È l'atmosfera in cui ordinariamente vivo. Se questa atmosfera io realizzo e vivo, e mi metto alla presenza di Dio, è una preghiera non fatta di parole, ma un atteggiamento di divina presenza. Questa è preghiera, attenzione, non c'è soltanto la preghiera fatta con le parole quando dico Ave o Maria, grazie a plena. Questa preghiera virtuale è un sottofondo. Fate conto, in un mare c'è la superficie, ma c'è anche un fondo. Le navi stanno in superficie, le navi sono le parole, va bene? Ma il sottofondo, l'oceano, l'acqua, tiene sulla parola, tiene sulla nave, in questo esempio che vi ho fatto. Ebbene, questo atteggiamento, possiamo chiamarlo anche raccoglimento, Dio è presente, e se non parlo io, parla Lui. È come l'atto di amore che, facciamo l'esempio di marito e moglie, nel caso in cui si vogliano bene, ecco, un buon matrimonio, eccetera, mica sempre stanno sempre lì a parlarsi, o sono appiccicati l'un con l'altro. La moglie magari sta da una parte, il marito sta da un'altra, ma si vogliono bene, si amano, anche se non si pensano in continuazione, l'incubo di pensare sempre alla moglie, no. Però l'amo, l'amo facendo il mio lavoro di metalmeccanico in fabbrica. È dentro di me, la vivo come presenza interiore, c'è, non ci stiamo parlando. A differenza però di questo, mentre la moglie sta lontana, Dio è dentro di me e non sta lontano. E mentre io lavoro, Lui è presente e mi guarda. Ed è lì, buono, non c'è bisogno che mi parli continuamente, anche se non Dio Bersotti dice, come fa il silenzio, Lui parla. Non c'è bisogno. L'importante è che ci sia. Ecco allora che io mi richiamo a questa presenza spesso con degli atti in cui dico, Signore, Tu sei presente attraverso delle preghiere brevi e continue. Per vivere questo raccoglimento, questo atteggiamento, il nemico numero uno sono le dissipazioni e le curiosità inutili. Ecco perché nella vita religiosa dei consacrati combattiamo le dissipazioni e le curiosità inutili. Avete lasciato il mondo e San Giovanni, cari amici, dice che i nemici sono tre, la carne, il demonio e il mondo. E il mondo tenta sempre di riprendervi con delle curiosità inutili. E qui adesso non so come il vostro rapporto con il mondo di internet, eccetera, ma noi abbiamo fatto una rinuncia quasi totale a questi mezzi. una rinuncia perché ti mettono poi delle curiosità inutili che non servono alla nostra vita religiosa. D'accordo? Le dissipazioni ti fanno venire degli affanni della vita, invece il vero religioso non guarda mai né troppo avanti né troppo indietro. D'accordo? Più un pochino stia avanti, fino a stasera, viva bene. Poi tanto potete morire, muori in pace. Stasera morirò e muori in pace. domattina morirò e muori in pace. E nel passato al massimo fino a ieri, ieri l'altro. Va bene? Ecco, questo è il nostro orientamento. Se vivo così, se vivo così, non affannatevi delle cose della vita come dice il Signore, questo atteggiamento interiore viene spontaneo. Io dico sempre tutto è sotto controllo. Quando vado su un aereo dico, Signore, ma io assumo, non è che mi piaccia troppo l'aereo, però dico, ma sono qua su, sono nelle mani tue. Ecco, fate conto di essere sempre su un aereo. Quello che succede, succede. Quando sei dentro un aereo, non puoi mica dire, scusi vorrei scendere, vado un pochino più a sinistra, faccio una sosta, tu sei lì, e quando sei lì, sei lì. Mi ricordo una volta andavo in Sardegna in aereo, c'era una bufera di neve terribile, naturalmente sempre con l'abito, e hanno cancellato tutti i voli, tranne quello per Cagliari, strano, tutti cancellati, quello per Cagliari, ero a Firenze, parte, parte st'aereo in questa tempesta di neve, i primi metri, anzi, i primi, almeno dieci minuti, sembrava di essere dentro un frullatore, una roba terribile, era bello perché ogni volta che la gente mi aveva visto, no, che scoteva questo aereo, tutti si voltavano verso di me, io lì, dicevo, scusate, io sto messo peggio di voi, cosa posso fare, veramente era spontaneo, forse aspettavano che io facessi una preghiera, li benedicessi, non so che cosa, volevo quasi dire, io sono più spaventato di voi, guardate avanti, non preoccupatevi, ecco, però, poi dopo un po', finite le nubi, lasso sul sole, meno male, ecco, questo per dire come, sì, tutto è sotto controllo, io lì me lo dicevo, lì, tutto è sotto controllo, tutto è sotto controllo, però poi, come dire, un attimo di tensione, lì c'era sul fatto, ma in realtà, il contemplativo, il contemplativo, vero, di queste cose qui, non si preoccupa, perché poi, le parole, che gli vengono, sono, come dire, sono le navi dell'oceano, allora, la preghiera attuale, dopo, viene molto più facile, non devo combattere le distrazioni, perché, ordinariamente, vivo in questa atmosfera, non mi faccio prendere troppo dalle cose, ecco perché, il padre Don Dio Barsotti, voleva che facessimo il noviziato, stando fermi in cella, senza far niente, cioè, via tutto, ti rimangono le pareti, le quattro pareti lisce, tu ti aggrappi alle pareti, perché vuoi fare qualcosa, ma sono lisce, non ti aggrappi a niente, non ti rimane niente, allora lì, o Dio solo, o basta, o hai via, ma chi ci resiste qui, cosa faccio qui, ecco, cosa faccio, niente, per il padre Barsotti, ma questo penso che sia così anche per voi, una volta fatto questo esercizio, di divina presenza, la cappella diventa uguale, la cucina, la cucina diventa uguale al refettorio, il refettorio diventa uguale al bagno, sì, e c'è Dio anche lì, una volta venne i cardinal speedlick da noi, conoscete, un bel personaggio, venne, parlava, ci fece una lezione sulla preghiera del cuore, camminando su e giù, e ci disse, queste frasi, spirituali, se non sapete fare l'adorazione, davanti a un cavolfiore, non illudetevi di fare l'adorazione davanti al Santissimo, guardate queste frasi, mi è rimasto impresso, perché mi dicevano, quando tu sei in cucina, e tagli il cavolfiore, contempla la meraviglia del cavolfiore, ha ragione, ha ragione, perché Dio è anche lì, vedete, allora, non c'è più distinzione tra la cappella, certo, c'è il Santissimo, e l'altro luogo, tutto diventa presenza di Dio, è quella preghiera virtuale, che possiamo dire, stato di raccoglimento ordinario, nel quale vivo. Io ho fatto tanti viaggi, quando ho detto, un bar sotto in treno, era bello perché si saliva sul treno, allora poi non c'erano prenotazioni, perché io mi gettavo a cercare a due posti, semplicemente c'era la ressa, quando lo trovavo, lo piazzavo sedere, poi dopo io cercavo di stare vicino a lui, e vedevo che, prima si conversava di tutto e di più, poi un bel momento vedevo che lui, quasi ordinariamente, come dire, si piegava la testa, e si metteva in silenzio, cercava questo raccoglimento, ma non che volessi dire, adesso basta chiacchierare, basta discorre, gli veniva normale, stava 5-10 minuti in silenzio, e io, come vi ho detto ieri, per imitazione facevo lo stesso, poi dopo, trac, riprendeva, ed ecco, la nave, veniva fuori la nave, la parola. Era bello questo fatto, perché, anche in treno, anche con tutta sta gente, che qui che parla, che chiacchiera, siamo alla presenza di Dio, o siamo o non siamo alla presenza di Dio, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, questa è la bellezza. Dio, dunque, continua, anche quando noi non siamo coscienti di Lui, a vivere questa presenza in noi. Dunque, Dio tende a portarti verso questa immanenza, è uno sguardo interiore, è una vibrazione. Scrive Angelo Silesio, un mistico medievale, taci, dilettissimo, taci, se tu potessi tacere completamente, Dio ti si mostrerebbe assai più di ogni bene che desideri. È un silenzio di consenso. L'anima, interiormente, si mette quieta, si mette in pace, sta in silenzio. Nada a te turbi, come diceva, ma è Santa Teresa d'Avila, nulla a te turbi, nulla a te spaventi. Scrive Don Divo Barsotti, tu non puoi costringere Dio, ma se tu fai posto al silenzio, allora il silenzio non è più vuoto. Il silenzio diviene la sua parola. La vera rivelazione di Dio, dunque, è il silenzio. Bene, questa è la preghiera virtuale, o preghiera continua, o stato di raccoglimento. Vediamo adesso la preghiera attuale, cioè il dire. È la preghiera più difficile, perché ci si distrae. Nel breviario, nei salmi, nel santo rosario, nella preghiera ripetitiva, è una preghiera nella quale noi parliamo, diciamo delle cose. ma la routine, il ripetere, il ridire, inaridisce l'anima, forse? Io vi dico, se ci fosse solo la preghiera spontanea, staremmo freschi. pregheremmo pochissimo, se ci fosse solo la preghiera, quando sento di pregare. Io ringrazio Dio per il dovere della preghiera. Io sentivo il bisogno, quando entrai in questa comunità, proprio di questo, di una disciplina della preghiera. Sentivo che era importante pregare, però, stando nel mondo, non pregavo mai, perché volevo pregare, ma poi, di fatto, non pregavo mai. Io ringrazio il Dio, che ci sia una legge, che ricorda la mia mente sballottata, che è l'ora di pensare a Dio. Una volta ebbi una disputa, con uno del rinnovamento, una disputa, verbale, così amichevole, che disse, ma voi con tutti questi salmi, che pizza, la regina, ai nori di offre, che gli ho detto l'altro giorno, tutto un linguaggio, che non si capisce, dice, noi nel rinnovamento, invece, io sono andato tante volte, al rinnovamento, ho detto anche delle messe, eccetera, tutta, facciamo una cosa, gli ho detto, senti, facciamo così. Avete presente le dispute, che c'erano nel medioevo, no, nel rinascimento, tra francescani e domenicani, a volte facevano le dispute teologiche, io ho vissuto a Firenze, c'era il saurarola, a volte c'era la prova del fuoco, sapete cos'è? Facevano un tunnel di fuoco, lo accendevano, e c'era la controversia, prima passava il dominicano, poi passava il francescano, chi arrivava vivo di là aveva ragione, no, c'è San Pietro Igneo, a Firenze, che fece questa prova di fronte agli eretici, un giorno Savonarola, ebbe una discussione con un francescano, e gli dice, facciamo la prova del fuoco, discussione su un problema di fede, lo fecero davvero, cioè prepararono questa catasta di legno, Savonarola uscì da San Marco, con tutti i frati in processione, tutti i vestiti, lui davanti, pronti per andare lì, il francescano non si presentò, all'ultimo momento pensò che forse, non era il caso di attraversare, questa pira di fuoco, diciamo, per sostenere un pensiero teologico, ma tornando al nostro, io dissi a questo qui, senti facciamo così, allora, io vengo alla preghiera vostra del rinnovamento, e metto un registratore, va bene? Metto lì, una settimana, e poi dopo una settimana, ascoltiamo, che cosa dite? Cioè facciamo una sintesi, delle vostre preghiere spontanee, di quello che viene, eccetera, eccetera. Perché? Dice, lo facciamo così, ci vuoi scommettere, che dopo una settimana, andando a vedere i temi, dite sempre le stesse cose? Cioè, nella preghiera spontanea, alla fine, se ci pensiamo, le cose che noi diciamo e chiediamo, sono sempre quelle due o tre. Facciamo la stessa prova con i salmi. Una settimana, nei salmi c'è molto di più. Cioè, cosa c'è? Le esigenze di tutti quelli che non credono, la sventura, la malattia, tanti altri, la lode, il senso di gratitudine. C'è un mondo universale nei salmi. Certo, è una preghiera che io leggo, quindi non mi viene spontanea, ma va a finire che la preghiera spontanea, alla fine, è l'esigenza del nostro, io, sì, sono vere, quando io prego per gli altri, non sono cose false, ma alla fine sono cose che vengono da me. Quindi, il mio mondo, alla fine, è limitato. Conoscete voi, forse, tutte le esigenze del mondo? Le conoscete tutte? Sapete qual è il vero bisogno della Chiesa? No, no, non lo sappiamo. Quali sono i veri, come dire, le vere necessità? Ci sembra che siano quelle. Allora, nel salmo, la preghiera è molto più sviluppata. Allora, io benedico Dio, il giorno in cui mi ha detto, caro Serafino, te ufficio, lodi, terza, sesta, nona, vespe, compieta, eccetera, eccetera. In questa preghiera liturgica, in questa preghiera ripetuta, io metto via il mio io, e Dio si fa presente nella mia preghiera. Quindi, non è importante la sensazione che io provo, ma è importante la certezza del fatto che Dio è lì. E la mia preghiera non cade in un cliché, come dire, ordinario. Io mi devo alimentare da fonti ricche. Dio Barsotti parlava di preghiera oggettiva, cioè vado a prendere quella preghiera già scritta dallo Spirito di Dio nel Salmo e la faccio mia. E quella preghiera, mentre la dico, mi nutre. Quindi la ripetizione di quella preghiera continua è l'incontro di nuovo con lo Spirito che l'ha scritta. Ecco la bellezza della preghiera del Salmo. L'ha scritta lo Spirito di Dio, cioè l'ha scritta un autore umano, ma l'ispiratore è lo Spirito Santo. Quindi io do di nuovo la parola allo Spirito Santo. E così anche quando dico nel Rosario, Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, do di nuovo la parola all'Angelo Gabriele. In quel momento io sono l'Angelo Gabriele. Capite che non è una preghiera mia. Non prego per i singoli bisogni, per i quali bisogna ben pregare, intendiamoci. Ma è una preghiera oggettiva. Mi metto in un flusso di preghiera già esistente. Potremmo dire che è una preghiera già presente, come quelli che sono nel mare, che cercano la radio, le stazioni radio, per poi comunicare con gli altri. Cercano le onde. Queste onde sono già dentro di me. Io mi devo solo mettere su quella lunghezza d'onda. Quindi, benedetto quel giorno, perché se no vado fuori strada. Io non posso pregare quello che sento, ma io posso vivere quello che prego. E c'è una bella differenza, perché se prego quello che sento, prego solo poco e ha sensazioni. Ma se vivo quello che prego, prendendo la preghiera già scritta da Dio nei salmi o anche altre forme di preghiere, io alla fine vivo quello che prego. Quindi la mia vita diventa un commento quotidiano di quel libro. Adesso parlo del libro dei salmi. Eschel, che era un autore, un ebreo contemporaneo, ha scritto dei libri bellissimi sulla preghiera, disse che il salterio è l'uomo dal punto di vista di Dio. È la vita dell'uomo come Dio lo vede. È un libro ispirato. D'accordo? Quindi nella preghiera ripetuta, non è importante l'emozione. L'emozione è una componente, ogni tanto ci può essere, della preghiera, ma non è la fonte. La fonte della preghiera è, come dire, la penetrazione della realtà di Dio, che io dico. È la penetrazione della realtà di Dio che io faccio presente nei salmi. E tante volte le intuizioni, le decisioni, nascono proprio da questa preghiera. Preghiera. Perché nella preghiera si fa presente Cristo che prega. Prega il Padre. Si fa presente Dio. Dio nella preghiera non sta fermo, non sta buono, non è lì immobile che ascolta. Dio è fuoco vivo, sapete. Quindi quando io dico Ave Maria piena di grazia, è fuoco vivo. Non è lì che ascolta uno seduto e dice vediamo cosa hai da dirmi. No, è una relazione viva. Per cui egli è l'amico, è lo sposo, è il Dio tutto fuoco, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, come diceva Pasquale, che si dona a me. Don Dio Barsotti disse all'inizio la preghiera è una scuola, alla fine diventa un mistero. Certo, è una scuola e infatti bisogna imparare a pregare e bisogna avere delle regole ben precise, delle discipline, però alla fine diventa un mistero. scrive questa precise parola. Nella preghiera noi partecipiamo misteriosamente alla stessa vita di Dio. Dio ci unisce a sé nella persona del verbo. Dunque, la preghiera è un grande mistero, perché in essa noi partecipiamo alla vita di Dio. Non vi è ascolto di Dio senza il dono del verbo. Non vi è una preghiera se non nell'offerta del figlio al padre. L'uomo così è coinvolto per azione dello spirito nella vita di Dio, cioè nella comunione infinita di amore del figlio al padre. Nella preghiera noi entriamo in Dio direttamente, quindi penso di essere separato da Lui. In realtà poi divento il figlio che parla al padre. Capite che è mistero perché entro in Dio nella Santissima Trinità? Dice può essere estremamente povera la parola che tu rivolgi a Dio, ma mentre dici e mentre ascolti questo è sempre un eco del dialogo eterno di amore che passa dal figlio al padre nell'unità dello spirito. E poi dice una parola per i consacrati. Nessuno potrà mai dire la grandezza, la sublimità della preghiera cristiana e ancora di più la preghiera di un'anima consacrata. È bello questo perché come vi ho detto c'è il dialogo il figlio al padre, c'è il dialogo di Maria Santissima a Gesù, figlio mio, madre mia e noi entriamo in questo dialogo. Io adesso posso dire a Dio padre e posso dire a Gesù figlio mio. vedete allora che la preghiera diventa la vita trinitaria in noi. Anche la preghiera ripetitiva, mentre diciamo in rosario magari siamo distratti, adesso parlo delle distrazioni, viviamo la vita intima di Dio. Non la sento, non c'è un fatto emotivo, ma più la dico e più entro in questo colloquio, in questa dinamica spirituale. veniamo adesso a due problemi che si hanno durante la preghiera, le distrazioni e l'aridità, perché come vi ho detto il nemico, il diavolo non vuole che preghiamo, a voi vi darà fastidio soprattutto su questo piano qua, vi dirà siete bravi, eccetera, potete anche pregare un po' di meno, ma non importa svegliarvi là, ma cosa fate là, ma che roba del Medioevo. E' questo il discorso che vi dice, pregate meno, pregate meno, e resto fatelo, perché sa benissimo che pregare meno è togliere questa energia, questa linfa che viene da Dio. La lotta contro le distrazioni, le distrazioni sono, anche i santi le avevano. Attenzione cosa scrive Santa Teresa, Teresa di Gesù, dottore della Chiesa, mi succede a volte di non poter formare un pensiero sensato su Dio e nemmeno di pregare, perché il danno mi viene dall'intelletto e dalla mia immaginazione. La volontà è ben disposta, cioè voglio pregare, ma il mio intelletto tumultua in un modo tale da sembrare un pazzo furioso che nessuno riesce a incatenare e non sono capace di tenerlo fermo neppure per lo spazio di un credo. Cioè cosa dice Teresa? Che voglio pregare? Appena prego il pazzo che è la mia fantasia si alza e comincia a girare nella mia testa e non riesco a tenerlo fermo, il corpo sta fermo, la volontà è buona, la mente vaga, gira e quindi credo di non pregare. Qual è il suggerimento che io do? Perché a volte il mio pazzo interiore qui dice non riesco a tenerlo fermo neanche per un credo, io non riesco a tenerlo fermo neanche per un padre nostro, inizio il padre nostro a metà la mia mente è già su cosa devo mangiare a pranzo oppure sul mio vicino che mi ha scocciato allora penso a lui in questo caso avere pacienza con se stessi eccetera ma l'uso di formule di preghiera molto brevi noi abbiamo l'uso della preghiera di Gesù cosa vuol dire che quando io dico Gesù ti amo quanto tempo ci ho messo neanche un secondo allora io dico oppure Gesù pietà di me e c'è tutto Gesù figlio di Dio pietà di me abbi misericordia appena dico Gesù pietà di me il pazzo si alza ma io ho già finito di pregare alzati pure perché appena prego la mia mente parte però lo frego sul tempo scusate l'espressione il pazzo si è alzato io sta pure già finito allora cosa fa si risiede Gesù ti amo tac si alza subito finito sta pure in pace alla fine lo sfianco io a lui è una lotta terribile e sono preghiere in cui c'è tutto alla fine addirittura potrei dire solo una parola Gesù è talmente stanco il pazzo furioso che non si alza neanche e dice ma cosa mi alzo a fare è già finito di pregare gli antichi chiamavano questa preghiera breve no gli antichi le nostre mamme i nonni i miei nonni no le ho detto le chiamavano giaculatorie la giaculatoria deriva dal latino iaculum che vuol dire freccia e il tempo in cui una freccia è slanciata verso il cielo se io lancio una freccia arriva subito al bersaglio allora questa giaculatoria i russi ne facevano tantissimo uso perché come dire pian piano a forza di dire delle preghiere brevissime il pazzo era sfiancato allora cominciavano ad allungare un po' queste preghiere no ma non molte parole dicevano sempre quella sempre quella Gesù pietà di me Gesù pietà di me ed erano molto concentrati su questo fatto l'uso della preghiera come dire breve e veloce è come una fiaccola che parte e noi la suggeriamo e certamente la farete anche voi durante il giorno durante gli spazi durante i passaggi durante il refettorio beh dipende e poi se uno parla con un altro no però insomma durante le situazioni anziché pensare ai fatti vostri al borbottio in teoria vi ho detto arrivate fino a stasera o arrivate fino a ieri pomeriggio perché è tutto sotto controllo quindi non avete nulla di più importante a cui pensare e questo è religioso perché è così allora cosa fate dite il nome di Gesù ma non preoccupatevi devo pregare per tizio per cario per sempronio perché poi le intenzioni vi affannano e se non le avete ne create delle altre lo sa il Signore le vostre intenzioni lo sa sono nel vostro cuore le legge lui voi non abbiate timore di questo pregate molto a parole con la parola detta a Gesù un atto di amore un atto di comunione poi le intenzioni arrivano tutte arrivano il Padre vostro sa quello di cui avete bisogno prima ancora glielo domandiate ci credete o no a volte io ho tante di quelle intenzioni che dico Signore io non ce la faccio più la gente mi dice prega per me ma moltissime io dico sempre di sì poi arrivo a casa e dico ma come faccio sono pazzo perché dico di sì poi dopo mi dimentico allora all'inizio me l'ero messo a scrivere in un quaderno pregare per tizio pregare per cari tutti i nomi ogni tanto andavo a vedere questo quaderno e mi disperavo perché dico mi sono dimenticato di pregare per quello di 5 pagine fa poi alla fine dicevo Signore ti prego per quelli del quaderno per tutti quelli così dico tanto li leggi tu io mi perdo tempo a leggere vedete mi incartavo su questi fatti alla fine poi il quaderno ce l'ho ancora ma se dovessi aggiornarlo adesso puoi scrivere tutti i vostri nomi uno per uno eccetera così pago io ho detto vabbè devo scrivere tutto allora che cosa faccio dico senti a Madonna gli ho detto senti la contabilità temmela tu perché io non riesco a gestirla diciamo però sappi che la mia preghiera ecco è per tutti loro allora parto con queste invocazioni allora un lavoro manuale non so chi di voi cosa fate voi io ho trovato la bellezza io ero padre generale i problemi ce n'erano come padre generale rapporti con i vescovi ricordo una volta andai da Cardinal Gantin questo lo dico Roberto Fusco per dire alla nostra comunità vi racconto sto aneddoto dove dovevamo andare in Africa Cardinal prefetto della congregazione dei vescovi un micidiale un africano là aveva preso l'appuntamento con lui per prendere la benedizione per andare per andare in Africa 10 minuti non avevo bisogno di granché arrivare a Roma pioveva in modo dirotto non avevo preso l'ombrello feci la corsa dalla fermata Ottavia Ottaviano mi si chiama in Vaticano arrivo sotto bagnato come un pulcino bagnatissimo arrivo sotto il segretario mi dice si è al terzo piano vai vado lassù c'è una specie di di sala d'aspetto no? io sto bagnato mi cavavo gli ave cercavavo cercavavo di asciugarmi un po' dopo 10 minuti si apre la porta esce un enorme questo cardinale col cappello rosso c'ero solo io me la sa si volta verso di me e dice dov'è il padre generale della comunità dei figli di Dio? volta verso me io mi feci piccolo mi dice ma sarei io eminenza allora lui si accorse subito della gaff perché pensava che io fossi come dire parte che fu almeno 15 anni fa quindi avevo 35 anni bagnato come pochi poi questo per dire la nostra comunità ecco il padre generale quello che faceva dov'è il padre generale della comunità sono io c'ero solo io in quella stanza sarei io scusi eh ma abbia pazienza se la scelta è stata questa la visibilità non è perfetta facciamo con quello che abbiamo diciamo allora lui mi dite la benedizione eccetera questo per dire però cosa ho scoperto andando adesso a tagliare la legna laggiù che sono in mezzo al bosco non c'è nessuno la possibilità di pregare molto di più molto di più là avevo molte più preoccupazioni quindi ho molte meno ma prego di più quindi alla fine è una grazia di Dio e questo serve a chi ha delle responsabilità e poi viene passato di grado e ritorna all'ultimo o quello che è consideratelo come grazia di Dio perché Dio vi dà la possibilità finalmente di pregare prima eravate là immersi in tutte queste situazioni adesso potete dire Gesù 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 in continuazione questa è la preghiera che vale per tutti e che salva il mondo e la congregazione dunque questo per quanto riguarda la distrazione questo serve moltissimo per combattere la distrazione il secondo problema che si ha nella preghiera continua e nella vita di preghiera è l'aridità cioè quando a me sembra che prego ma nessuno ascolta a me sembra di pregare ma boh dico delle parole qua non sento niente non vivo niente eccetera allora qui vorrei portarvi l'esempio di Beethoven tutti conoscono Ludwig van Beethoven un esempio che ho sentito una volta mi è interessato Beethoven diventò cominciò a diventare sordo all'età di 28 anni arrivò un bel momento in cui fu totalmente sordo non sentiva un H benissimo da sordo completo compose la nona sinfonia come fece Dio solo lo sa perché poi un musicista deve mentre immagina la musica deve sentirla e niente non la faceva quindi si aveva tutto in testa un genio mostruoso la famosa dove c'è l'inno alla gioia il suo capolavoro la nona sinfonia quando la rappresentarono per la prima volta nel teatro di Vienna lo chiamarono lui era vivo ovviamente lo chiamarono ad assistere il poveraccio era sordo come una campana per cui non sentiva niente lo misero vicino all'orchestra in un fianco era la prima volta che veniva rappresentato c'era la gente così durante la rappresentazione il povero Betone che non sentiva niente si addormentò immaginate questi che suonano il compositore lì che ascolta ospite d'onore che dormicchia che dorme non sentiva niente quando finì ci fu un'esplosione di applausi una standing ovation tutti in piedi dieci minuti ad applaudire eccetera e Betone che dormiva quindi non si accorse nemmeno che era finita non vide quelli che applaudivano dormicchiava lì così mi fa venire in mente che anche la nostra preghiera a volte è così cioè io la dico la scrivo la dico mettiamo non sento niente ma che applausi in cielo sì signore perché la preghiera l'ha scritta lo spirito santo l'ha detta lo spirito santo e io mi unisco allo spirito santo io dormicchio va bene ogni tanto anche noi dormiamo quando abbiamo l'adorazione al pomeriggio vero c'è gente che fa parlo di noi non di voi che fa l'adorazione prostrato io quando vedo uno troppo prostrato dico un po' sospetta questa questa posizione infatti ogni tanto può succedere che dopo un quarto d'ora che uno è prostrato si comincia a sentire nel sottofondo allora io mi avvicino gentilmente e faccio un piccolo gesto in realtà pianto cinque dita nel costato in modo che sto qua si tira su immediatamente e dico adorazione in ginocchio eccetera cosa vuol dire che a volte la nostra preghiera è un po' addormentata anche se uno è sveglio diciamo fate conto di essere Beethoven va bene cosa vuol dire che la preghiera l'avete detta alla fine dite il vostro Amen cioè sì è così non abbiamo un potere totale sulle nostre potenze non ce l'abbiamo siamo della povera gente però siamo lì anche se siamo aridi non sentiamo niente voi dovete pensare che la preghiera è arrivata perché la sinfonia è buona la parola è giusta dite il vostro Amen è lo stesso e fate pregare lo Spirito Santo in voi non importa di quello che sentite o di quello che non sentite date gloria a Dio d'accordo? non occupatevi del risultato di quello che sentite un altro metodo che può essere utile è pregare col corpo cosa voglio dire? l'intelletto di cui dicevo prima non obbedisce è un pazzo che si alza in continuazione un folle il corpo no il corpo obbedisce se io dico il mio corpo mettiti in ginocchio il mio corpo mi obbedisce va subito in ginocchio se io dico la mia mente stai ferma e pensa a Dio dopo tre secondi la mente pensa a tutt'altro non mi obbedisce che volete che vi dica allora io cosa faccio? eh uso il trucco prego col corpo cioè cosa faccio? sto in ginocchio mentre sono lì se la mia mente è altrove io dico al mio corpo tu stai fermo non ti muovere fermo lì e lui obbedisce il demonio mi dice ma cosa stai qua a fare? ma tanto stai pensando alle zucchine alle carote dopo vi dico un'esperienza che ho fatto con le zucchine e le carote di grande efficacia va bene sto pensando alle zucchine e le carote che devo mangiare dopo che devo fare da mangiare perché facciamo anche i turni in cucina mi hanno messo mai in cucina che non so fare neanche un nuovo sodo ma comunque va bene sto lì penso alle zucchine e le carote allora dico al mio corpo no tu stai fermo lì il diavolo mi dice vai via perché è un'offesa a Dio che tu stia qui col corpo e la testa è altrove e io dico al mio corpo no tu stai lì sapete cosa succede? che la mia mente vaga 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 alla fine ritorna nel corpo ma trova il mio corpo prostrato diceva Isacco di Ninive fa che la morte anzi l'angelo della morte venendo a prenderti ti trovi prostrato perché la prostrazione o l'essere in ginocchio l'atteggiamento di preghiera è comunque un esserci per cui io dico a Gesù Gesù la mia mente va per gli affari suoi almeno il mio corpo ti prega prova a dir di no prova a dir di no io sono lì in ginocchio la volontà buona ce l'ho il mio corpo ti sta pregando e scusi Noè ma il mio corpo sono sempre io è una parte di me voi mi dite sì ma allora questo è è un trucco uno sta lì si distrae volontariamente no non mi distraggo volontariamente però quando mi distraggo guardo il mio corpo e dico a Gesù sono qua ci sono per cui a questa tentazione resistete state lì non andate via perché se quando poi il pensiero ritorna voi siete fuori siete fuori completamente anche il corpo è andato via l'uso del corpo è importantissimo qui ci sarebbero tutti ma non lo faccio gli atteggiamenti del corpo mani alzate mani abbassate in ginocchio prostrati eccetera dobbiamo usarlo il corpo dobbiamo usarlo bene San Domenico c'ha un trattato le otto posizioni del corpo se andate a Bologna andate nella cella dove è morto San Domenico ecco che vedete tutti i disegnini aveva fatto lui poi li hanno rifatti su come bisogna pregare mani alzate mani in basso eccetera vi dico quella degli zucchini e delle patate quando io prima dei voti perpetui noi abbiamo un erimo in mezzo a un bosco si chiama Palaia voglio fare l'eroe e dissi padre voglio fare dieci giorni di solitudine complete l'eremita là in mezzo al bosco va bene vai pure sono andato là non c'era nessuno mi ero preso in sacoccia tutti i viveri per dieci giorni per dieci giorni sono stato in una casa in mezzo al bosco l'essere più vicino era almeno a 5 km arrivo là in questa casetta adesso mi preparo bene i voti perpetui lo faccio così prego tutta la notte dalle 9 della sera fino alle 5 del mattino poi durante il giorno dormirò un po' poi faccio altre attività però la preghiera notturna tutta la notte 8 ore 9 ore il primo giorno mi metto lì alle 9 di sera c'è il santissimo io da solo non c'era nessuna possibilità di distrarsi vince il pregare e mi viene in mente cosa faccio domani da mangiare ora ero da solo avevo il cestino come l'orso yogi già preparato non era neanche un pensiero da farsi perché se avesse dovuto far da mangiare per 60 persone uno può dire cosa faccio cosa non faccio era già tutto pronto ma io dico ma cosa penso ma sono qua c'è il santissimo qua allora mi concentro poi dico pomodori o zucchine e ha cominciato ad arrabbiarmi con me mi dice ma cosa mi interessa pomodori o zucchine c'era un cestino di pomodori uno di zucchine allora mi concentro di nuovo sul signore sul nostro signore poi dico pomodori va bene ripieni o crudi con insalata tanto era passata quasi un'ora per cui mi dico ma adesso basta basta perché io non posso star qui scusa il signore ma allora faccio così adesso rimango qua però penso a pomodori e zucchine cioè mi concentro su questo siccome mi vengono sempre in testa sono lì alla porta appena cerco di prendere mi vengono in testa evito la preghiera non prego e adesso mi metto volontariamente a pensare a pomodori e zucchine voglio vedere quanto tempo riesco a stare su questo pensiero comincio a pensare allora i pomodori ero un pazzo se uno mi avesse visto questo è pazzo che di notte sta lì davanti al santissimo i pomodori sono delle piante eccetera si possono mangiare in questa maniera mi ricordo quella volta le ho mangiate con la nonna erano buonissime quasi quasi le rifarei eccetera dopo un po' cominciando a stancarmi poi di pensare a pomodori e zucchine mi scappavano via il pensiero io lo riprendevo dice no no state qua pomodori voglio stare con voi voglio fare riflessioni esagerate fino a sfinirmi su questo fatto e sono stato lì ma almeno due ore due ore due ore tutte le ricette che poi non ero capace di fare però insomma le pensavo alla fine se ne sono andati questi pomodori e zucchine perché li avevo sfiniti li avevo distrutti a forza di pensare a loro poi sono rimasto lì per grazie di Dio sveglio poi dopo un po' ho andato all'orologio erano le 5 del mattino che bravo allora sono riuscito a sfinire il pensiero delle zucchine e dei pomodori proprio pensando a loro ho fatto questa esperienza poi dopo è chiaro che la notte dopo sono tornati pensate mica che siano ti aspettiamo domani notte va bene però dopo io avevo già un po' capito anziché due ore pomodori e zucchine sono stato 40 minuti poi ci sono messe in mezzo anche le patate volevano passavo in rassegna tutto quello che avevo nella dispensina però dopo man mano man mano alla fine diventava sempre più ridotto perdeva forza perdeva potere perché hanno un limite anche loro scusate Dio è infinito ma le ricette poi quelle che conosco io per grazia di Dio sono pochissime per cui forza di pensare veniva la nausea alla fine non volevo quasi neanche mangiarli che benedetti i pomodori benissimo questo vuol dire che le distrazioni hanno un potere ma limitato ma limitato hanno un potere limitato il demonio le usa quindi non turbatevi a volte potete taci anche tu qualche volta sui pomodori quindi se ti vengono in mente non innervosirti con te dici ma io sto a pensare al signore eccetera sì è vero però l'uso del corpo l'uso della preghiera breve sapendo che le distrazioni comunque hanno un potere molto limitato sul nostro io più profondo se avete un raccoglimento una preghiera virtuale continua eccetera viene molto più semplice dopo la preghiera Gesù ti amo Gesù sono con te bene io direi di aver concluso la mia la mia dissertazione sulla sulla preghiera perché poi la nostra vita alla fine passa tutta così gli atti che si fanno l'accoglienza che voi fate la fraternità eccetera vengono tutti a cascata se la vita di preghiera è viva è intensa è piena di amore per Dio è piena di passione per Gesù sarà bella anche la vita se invece la preghiera viene meno non illudetevi di riempire lo spazio con atti di carità e di fraternità perché questi sono sempre una conseguenza della vostra comunione con il Signore divengono quasi impossibili se non è viva la vita con Dio con il Signore d'accordo? va bene questo allora io ho concluso diceva il buon padre Mille se c'erano delle domande dicevi che c'era spazio se qualcuno mi aveva fatto una domanda su come leggiamo la Bibbia se volete vi dico semplicemente come noi leggiamo la Sacra Scrittura noi abbiamo un'ora di lettura della scrittura al giorno il metodo è il classico metodo monastico cioè orazio lezio contemplazio cosa vuol dire? che su 60 minuti i primi 5 almeno sono di preghiera non ci buttiamo sul testo non ci buttiamo sul testo pensando di avere già di sapere già tutto vieni Spirito di Dio un'Ave Maria un raccolto una bella prima raccolta non perché io debba capirvi sa che cosa però prego prego perché Dio mi parli perché Dio mi dice entro in questa sintonia poi lezio cos'è la lezio? la lezio è la lettura allora noi leggiamo il testo senza la pretesa di capire pura lettura abbiamo la pagina capitolo 2 del libro di Tobia benissimo comincio a leggere e leggo il capitolo 2 così non ho la pretesa di dire vediamo cosa mi dice perché questo è un po' l'affanno l'affanno di chi vuole capire arrivato in fondo al capitolo letto lentamente cosa faccio? lo rileggo dopo che l'ho rilegto la seconda volta lo rileggo la terza volta e cosa mi succede? che leggendolo la seconda o la terza volta stranamente la mia attenzione va su un punto che non so all'inizio quale debba essere mi accorgo che c'è quella frase quel concetto mi stimola cioè mi allora cosa faccio? butto via tutto il resto letteralmente lo butto via non mi interessa più e mi fermo su quella frase e me la ripeto senza la pretesa di capire che cosa Dio mi voglia dire me la ripeto dopo un po' che me la ripeto mi accorgo che questa parola prende vita nel senso che mi dice qualcosa mi dice qualcosa allora io comincio a mettere la mia vita su quella frase faccio un esempio lettura degli atti degli apostoli è il capitolo in cui Pietro esce dal carcere questo l'ho fatta di recente per cui ve lo dico esce dal carcere l'angelo lo porta fuori eccetera poi c'è quella scena in cui Pietro va a casa dove erano riuniti e bussa la porta vi ricordate cosa dice se non ho esattamente il numero del capitolo c'è una ragazza che va a vedere chi è apre lo spioncino vede Pietro anziché aprirgli corre dentro e dice è Pietro è Pietro la gente dice no è impossibile che sia Pietro Pietro in prigione e il testo dice intanto Pietro continuava fuori a bussare la scena è quasi comica perché questo poveraccio è uscito di prigione con il rischio di essere preso di nuovo perché era lì fuori che bussava bussa che sta qua non gli apre cioè corre dentro ma apre almeno aprigli poi dici c'è Pietro ma era tale la gioia di dare la notizia che c'era Pietro che si era dimenticato che Pietro bussava leggo il capitolo quindi ci sono tanti passi più importanti l'angelo che arriva esce dal carcere eccetera la mia attenzione si è fermata su questa espressione Pietro intanto continuava fuori a bussare poveraccio mi faceva pena in quell'episodio poi mi dico ma ma cosa c'entra questo forse devo cercare una frase un po' più significativa niente la mia attenzione andava lì allora buttato via tutto il resto l'immagine di Pietro che bussa allora mi sono detto chi è Pietro? Papa bussa e dove bussa? adesso Pietro la bussava con la porta bussa che ne so alla porta del mio cuore allora mi sono visto Benedetto XVI che bussava in me e io anziché aprirgli andavo dentro e dicevo c'è il Papa c'è il Papa e lui poveraccio fuori che bussava allora dico ma sta a vedere che qui c'è il Papa che bussa e io non apro e mi sono accorto che era proprio così ho fatto tutta questa ora sul fatto ho messo vedete la mia vita sul testo e non meditando la bellezza che ne so dell'episodio sul fatto che il Papa bussava alla porta mi è rimasto impresso questo fatto vedete poi fine dell'ora io continuo la mia giornata però mi rimane impresso il fatto che Pietro continua a bussare alla porta poi da questo fatto si possono fare tante altre riflessioni ognuno può fare la sua alla fine poi appunto Orazio lezio meditazio la meditazio è mettere la propria vita su quel versetto su quel testo e se lo fate vi accorgerete che certi versetti che vi sfuggono completamente in una lettura veloce alla fine possono essere parola di Dio più di tanti altri per esempio nel libro dei Maccabei conoscete i Maccabei se vi dico leggete il libro dei Maccabei ma cosa ho fatto di male con una penitencia per leggere il libro dei Maccabei noi leggiamo i Maccabei ci sono dei passi straordinari ma se io non avessi l'obbligo di leggere un'ora la scrittura il libro dei Maccabei quel mese che vengo di Maccabei non li troverei mai è la parola oggettiva di Dio contenuta lì che diviene vita diviene vita in me questo è un lavoro che i monaci fanno sempre questo lavoro vedete per dire oggettiva non sono io che mi invento chissà che cosa è Dio che mi comunica volta per volta i singoli passi poi c'è una domanda di Fra Stefano all'inizio ho detto che hai tirato su tu la busta oggi e non c'eri abbiamo un libro al mese siamo liberi abbiamo ogni mese un libro allora durante è chiaro che il libro può essere di pochi capitoli o di molti capitoli l'importante è che io arrivi a fine mese avendo letto quel libro per cui io se leggo un capitolo leggo una frase leggo per esempio quando abbiamo le lettere di San Paolo lettere ai filippesi io ricordo che la prima volta che lo feci quando arrivai al passo per me vivere è Cristo non riuscivo più andare avanti per cui io lo riprendevo dall'inizio arrivavo per me vivere è Cristo tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni per quel mese perché? perché per me non era vero io non vivevo per me vivere è Cristo ma caspita ma chi può dire una frase del genere io non posso leggere cosa c'è scritto la riga dopo se non entro in quella parola allora ecco che mi è bastata una frase per tutto il mese comunque non abbiamo un capitolo abbiamo il libro da leggere a volte dopo mezz'ora uno ha già esaurito le pile per cui abbiamo la riserva si può leggere qualche volta anche qualche commento qualche altro libro è un po' la domanda di riserva la busta di riserva però in realtà è meglio stare sul testo biblico anche quando questo è impegnativo a volte io arrivo a fine dell'ora che non ho trovato niente si ho detto scrivi Pietro che bussa ma ci sono dei giorni in cui ero in fondo ma dico ma sì tutto è bello ho capito tutto ma non mi ha scaldato il cuore non mi ha detto niente pace chiudo vado a dire le lodi eccetera non importa ma se faccio questo tutti i giorni tutti i giorni io lo faccio ormai da tanti anni beh insomma qualcosa arriva qualcosa di bello arriva per cui questo non lo facciamo questo è il nostro metodo vai la regola come metto che i dati senti di persona quanto parlo che ti dico che era un punto traduzione superiore sì è la parola personalizzata per te che il signore ha chiamato in questa congregazione perché l'obbedienza al magistero venendo a cascata la parola di Dio nella Bibbia al magistero ordinario e così alla chiesa è molto vaga non vaga è precisa ma maglie molto larghe per cui l'uomo può sfuggire la regola il dono che Dio ti fa della regola e quando tu fai voto d'obbedienza ecco della regola cos'è è la parola per te è personalizzata che tu non sbagli perché in questa come dire nell'obbedienza a queste indicazioni che vengono appunto il testamento del padre fondatore tu trovi la via perfetta di santificazione dato che la chiesa l'ha riconosciuta per cui è l'applicazione delle prime due è l'applicazione pratica dell'obbedienza a Dio nella parola di Dio e nel magistero ordinario tu obbedisci sì è presto io obbedisco al Papa sì certo ma il Papa mica parla a te viene forse il Papa domattina in camera tua a dire questa è la tua vita di santificazione il Papa dice con le sue encicliche con i suoi richiami generali la linea di generale invece il superiore locale qua non ha richiami generali specifici ora c'è da pulire c'è c'è da pulire qua vieni tu ecco allora in quest'atto di obbedienza e tu vivi la tua adesione a Cristo per cui la regola è un atto di amore potremmo dire per darti la via di santificazione più perfetta più diritta infatti ho citato San Giovanni Bergman e anche altri che obbedendo alla regola si sono santificati San Giovanni Bergman non ha fatto neanche un miracolo non aveva atti particolari obbediva alla regola l'ha fatto santo a 24 anni ha fatto bene ogni cosa è fantastico questo fatto nonostante questo noi abbiamo tante piccole vie di scappatoio vero o no parliamoci in famiglia abbiamo tante piccole vie anche per sfuggire alla regola guardate l'uomo è l'uomo che scappa l'uomo è sempre in fuga davanti a Dio sempre e può sfuggire anche all'occhio del superiore allora il superiore lo va a beccare è bellissimo questo uomo come nel Cantico vuole Dio ma poi alla fine sfugge anche alle piccole cose della regola è straordinaria questa fuga dal Dio ma l'uomo poi quando Dio lo chiama ecco nella vita religiosa se obbedisce se fa il suo dovere il suo compito si santifica attenzione non io speriamo che me la cavo si santifica si santifica per cui è un grande dono un grande dono a volte croce di Elizia ma è un grande dono vai come lo vediamo dunque Don Dio Barsotti ha scritto 160 libri quindi ha scritto molto sulla Madonna ne ha scritti pochi ma quei due o tre che ha scritti sono di una profondità mostruosa lui aveva un rapporto come dire a devozione se l'aveva noi non diciamo il rosario in comune come lo dite voi perché avendo tutta la liturgia completa e cantata aggiungere altra preghiera vocale ci abbiamo provato ma abbiamo visto che diventa come regola mettendolo fisso diventa un po' impegnativo per cui lo diciamo ogni tanto a occasione diciamo adesso il rosario o lo diciamo personalmente lo diciamo insieme così quando appare quando viene noi con Don Dio Barsotti lo dicevamo sempre però così andavamo in camera ci diciamo un rosario un cronacrono del rosario quindi il rapporto è molto vivo lui era molto teologico nel senso che era un fautore della Madonna della Vergine Maria corredentrice corredentrice sotto la croce per cui adesso si parla fatti il dogma eccetera lui diceva questo è assolutamente certo tutte le grazie vengono dalla Madonna cioè vengono da Dio attraverso la Madonna quindi mediatrice di tutte le grazie quindi un rapporto diciamo vivo non così costitutivo come in voi per quanto riguarda il sottoscritto io quantificare l'amore alla Madonna è difficile dirlo però c'è un fatto che la prima botta in testa l'ho ricevuta a un pellegrinaggio che non volevo fare mi iscrisse mia mamma sono sempre queste mamme a tra di me mi iscrisse lei quando mi accorse che mi aveva iscritto e vidi il gruppo che andava la più giovane o il più giovane aveva io avevo 21 anni il più giovane lì aveva 70 e disse ma non mi faccio a fare un pellegrinaggio così alla Salette non senti la Salette pellegrinaggio alla Salette andai a fare questo pellegrinaggio alla Salette in Francia sono delle apparizioni nel 1800 a lì non so cosa mi successe e sta di fatto e cominciai a piangere come una vita tagliata andavo a piangere sotto la Madonna tant'è che c'era un gruppo di tedeschi che vedendomi piangere lì una signora disse ma sta male ha bisogno io dissi senta in italiano non so neanche io cosa mi sta succedendo ma sta di fatto che sentivo un bisogno di redenzione un bisogno di cambiare eccetera quando tornai dalla Salette ero studente all'università avevo appena conosciuto la comunità ma vagamente cominciai a dire il rosario tutti i giorni ecco il grande dono che ho ricevuto da lì spontaneamente mi veniva a dire il rosario la seconda botta l'ho ricevuta a Meggiugorje quando andai appunto nel 1984 non c'era nessuno c'era solo un pullman di Como e poi c'era il nostro pullman di Bologna e basta noi non sapevamo cosa fare dalla mattina alla sera perché non c'era niente c'era questa chiesa vuota lì parlavano solo in croato è vero c'erano questi due italiani ma non più di 70 80 persone durante il giorno giravamo così giravamo fuori nel villaggetto se uno deve andare nel gabinetto deve andare nella vigna perché nella vigna di un altro intendiamoci quindi magari col pericolo che venisse fuori il contadino e dicesse ma cosa fate qua vabbè insomma e poi alla sera si arrivava tutti lì e alla sera alle 5 e c'era arrivava tutta la gente eccetera e c'era quello che c'è anche adesso due rosari la messa e un secondo rosario eccetera allora noi stavamo ma era tutto in croato non c'era una parola di italiano poi alla fine venivano questi i veggenti e andavano nella stancetta a destra adesso c'è il santismo non so cosa c'è comunque guardando la chiesa a destra entravano lì erano chiuso e poi dopo venivano fuori e c'era il sette patera di gloria io rimasi impressionato sapete da che cosa dagli uomini che venivano tutti in chiesa e io vedevo che finivano le attività mettevano la zappa lì fuori tutti in chiesa io dicevo ma nelle nostre chiese giorni feriali uomini non ce ne sono tutti venivano lì e pregavano in ginocchio devotissimi eccetera e io dissi ma qui qui c'è qualcosa qui c'è qualcosa però ero un po' invidioso del fatto che quelli andavano nella stanzetta non invidioso ero curioso non ero ancora perfettamente in linea allora dissi voglio andare anche io nella stanzetta solo che durante l'apparizione ci potevano andare solo i malati e i sacerdoti io avevo 22 anni allora 23 io non ero né malato né sacerdote e di come faccio però avevo un anello una suora mi aveva dato un anello con il croce fisso avete presente gli anelli delle suore c'è un croce fisso allora io dico ma io ci provo alla porta da ingresso c'era una specie di energumeno che appunto faceva entrare i malati e i sacerdoti io avevo una giacca a vento un piumino mi si chiama azzurro come il vostro e scarpe da ginnastica gialle non potevo passare per un prete o eccetera per un malato no non mi sentivo poi se uno va lì dentro c'è la madonna che faccio finta di essere malato cosa faccio il paralitico lì così non potevo farlo cosa feci mi misi questo anello quando arrivi sulla porta feci vedere l'anello come fanno i vescovi ma veramente va se ci ripenso feci vedere l'anello così quando lui vide questo anello spalancò immediatamente la porta se io entrai mi trovai lì mi misi in un angolino dico se mi beccano tanto sono già dentro eccetera se ci ripensano mi misi in un angolino dopo cinque minuti arrivarono i veggenti e niente poi ci fu avete visto avete avuto anche voi qua no improvvisamente cadono tutti eccetera e lì niente io ebbi la curiosità diciamo e partecipai a quel momento il giorno dopo dico lo rifaccio anello sempre dico Germania mi aveva visto il giorno prima fece vedere l'anello gli fece entrare in un isilì cosa successe quando i veggenti poi si alzarono e andare in chiesa e dire il sette pater ave gloria quindi quelli che erano lì seguirono io mi attardai un secondo non si accorsero di me chiusero la porta a chiave chiusero la porta e senti di là clac dico oddio sono rimasto qua dentro come faccio intanto sentivo fuori i sette pater ave gloria e poi c'era il terzo rosario dopo e cosa faccio adesso comincio a bussare qua già che ho fatto un po' il furbo eccetera poi comunque non è colpa mia stavolta perché sono rimasto chiuso qua e dico beh qualcuno era da prima che devo dire prima o poi io non posso adesso soprattutto stavamo dicendo la preghia che faccio uno da dentro il famoso San Pietro e cosa devo fare mi sono dico vabbè sono qua il signore ha voluto l'obbedienza alle circostanze sono qua non l'ho voluto mi sono messo in ginocchio ho detto ma qui a passare la madonna dieci minuti fa cinque minuti fa e sentivo di là che pregavano sette pater alle glorie lo sconvolgimento che ho avuto in quei cinque minuti non sarò mai poi sono stato mezz'ora alla fine perché poi ho cominciato a dire ragazzi tiratemi fuori di qua anche lì mi sono messo a piangere come un bambino così e sentivo una purificazione dentro straordinaria sentivo che non poteva più essere come prima sentivo che la vita cambiava sentivo che se ero lì poi non potevo tornare a casa e essere come prima e niente poi piansi piansi su come dire un lavaggio so se forse anche voi qualche volta avete avuto questa chiamiamo la percezione un lavaggio c'era la madonna c'era la statua ovviamente però c'era lei dopo un po' quando finì tutto timidamente bussai e poi l'energumeno venne ad aprire ma quando mi vide dovevo avere una faccia veramente un po' sconvolta diciamo quindi non ebbe il coraggio di dirmi nulla io poi dopo non osai più la terza volta entrare avevo già avuto il mio sta di fatto che quando veni a casa dissi la mia vita è cambiata non è più come prima quindi anche questo fatto di Međugorje chi parla male di Međugorje io c'è un mio babbo anche là che ha voluto prendere la benedizione l'ho raccontato che ho della benedizione non ve l'ho detto l'ho detto che ve la racconti è un episodio di vita il mio babbo il mio babbo quando diventi lui contrarissimo alla mia chiamata eccetera quindi per cinque anni non mi vole più i miei voti non venne contrarie insomma anche fino al mio sacerdozio avevo una faccia quando venne l'ordinazione venne ma là sembrava Benito Mussolini una mascella in prima linea proprio scocciato pochi giorni prima dell'ordinazione mi disse cosa ti devo regalare perché se si fa sempre un regalo io sarei andato a Međugorje tre giorni dopo due giorni dopo con un piccolo pellechinaggio allora dissi papà vieni con me a Međugorje devo fare un regalo vieni con me a Međugorje e lui disse va bene ma lui pensava che Međugorje fosse un villaggio a cinquanta a venti chilometri da Bologna o qualcosa di simile cioè tipo andiamo lì facciamo diciamo un ave marietto andiamo indietro non aveva accolto quando si avvicinò la data e si rese conto che era un posto dall'altra parte del mare dove si pregava da mattina alla sera cominciò a protestare e disse eh ma no ma papà feci come Erode che dice quello che vuoi anche metà del mio regno te lo darò me l'hai promesso adesso devi vabbè venne anche lì salì sul puma tutti i rosali in fondo primo giorno messa era il 1990 per cui era già più organizzato messa in croato in tre ore notta che mio babbo non andava messa in croato una lingua si capiva niente stava in fondo alla sera disse papà com'è andata oggi insomma fece una faccia ormai era in gruppo non se la sentiva di dire le cose sue ma sì vabbè non ti preoccupare però capivo che poveretta era lì proprio perché l'aveva detto secondo giorno andiamo da Padeioso a il paese lì più distante Sirocchi Bria che si chiama cinque ore a messa cinque ore beccato sta a messa le cinque ore però meno male in italiano quando arrivai in sacrestia trovai Padeioso che stava dicendo c'è un prete solo c'era Padeioso e un prete il prete gli stava anziani gli stava dicendo io oggi faccio il cinquantesimo dell'ordinazione sacendo tale appena sentii questo io alzai la mano e dissi e io sono stato ordinato tre giorni fa allora lui ci guardò non disse niente andammi in chiesa che paramenti e disse sentite oggi io volevo parlarvi della preghiera ma ho cambiato idea perché in sacrestia ho trovato vedete questo qui alla mia destra quello anziano oggi fa cinquant'anni di messa tra la gente vedete questo qui alla mia sinistra è stato ordinato tre giorni fa e allora parlerò del sacerdozio della bellezza del sacerdozio poi cominciò le sue catechesi il sacerdozio che bello le mani del sacerdozio beati quei genitori che hanno il figlio mio barbio era in fondo là erano sette anni che masticava amaro beati i genitori così dopo tre ore vidi mio padre che si alzò io ero un presbiterio dove ero in fondo e andò dietro una colonna tipo fantozzino dietro la colonna e disse cosa fa dietro la colonna e cominciai a puntarlo guardavo la colonna perché era là fisso passano dieci minuti e era sempre dietro la colonna dopo dieci minuti si rimette in mezzo la gente alla fine della messa padre Ioso dice adesso i sacerdoti passano a benedire state fermi io dico mi volto verso padre Ioso con l'aria terrorizzata e dico cosa devo fare perché ero novellino ero appena stato ordinato cosa devo fare lui mi dice aspetta adesso lo dico a tutti allora dice voi state fermi i sacerdoti passano e vi mettono le mani sulla testa senza dire una parola senza espressioni senza niente voi state al vostro posto perché sennò si fa confusione chi passa passa siamo in tre noi sono tutti uguali chi passa passa i sacerdoti mette le mani sulla testa mi raccomando state al vostro posto allora noi facciamo per scendere come faccio il primo gradino vedo in fondo un certo rimescolio un certo movimento e vedo uno un tizio che esce dalla folla perché c'era un sacco di gente e comincia a camminare velocemente verso il presbiterio era mio padre e io dico ma cosa fa? anche perché padre Ioso aveva detto tre volte state fermi adesso si becca una sgridata da padre Ioso storica perché poi padre Ioso è uno che diceva e dice le cose invece il silenzio non ha detto niente quest'uomo più si avvicinava più camminava velocemente oltretutto un bestione grande e grosso arriva lì io lo fermo perché mi vedo questo che corre praticamente si piazza davanti a me e dice io sono tuo padre davanti a tu un silenzio io sono il primo che tu devi benedire sono rimasto ho alzato le mani faticosamente guardate era una cosa assolutamente innaturale perché io che benedicevo mio padre poi così davanti a tutti con questa dichiarazione gli ho messo le mani sulla testa lui niente tranquillo e buono e se ne è tornato al suo posto da quel momento ha cominciato a venire a messa tutte le domeniche quindi non andava non veniva eccetera anche lui è tornato a casa ha fatto il suo cammino un giorno l'ho visto col breviario in mano gli ho detto papà tu che mi dicevi là che vai a fare il perpetuo di Don Divo Barsotti mi disse il primo giorno vai a fare la perpetua perché c'era Don Divo Barsotti e c'ero io basta tu vai a fare la perpetua ti ricordi quando mi dicesti che andavo a fare la perpetua sì cosa ci fai col breviario in mano o non ha voluto darmi la soddisfazione dice no no niente niente un giorno lo vedi anche col rosario guarda ma chi mi parla mai dei miei giorni dice ragazzi io vi porto degli esempi viventi questo era inconvertibile era inconvertibile è venuto lì si vede che questa messa cinque ore sul sacerdocio eccetera poi è scoppiato il cuore ed è uscito dalla folla come la verona che è andata là davanti a tutti a dire io sono il primo che adesso tu devi benedire c'è da dare l'odio a Dio di questo quindi tu mi dici com'è la Madonna ha fatto tutto in me e nella mia famiglia silenzio non c'è più altro da dire dopo questo non c'è più altro da dire sì la contemplazione della parola biblica è proprio questa quando tu hai trovato il tuo versetto te lo ripeti Pietro bussò alla porta e contempli un po' la scena questa è un po' è una scena biblica è un fatto divino è parola di Dio e la contempli poi ti accorgi poi metti la tua vita su quella parola cioè dici e io cos'è questa parola dopo che l'hai contemplata è come se tu mettessi te stesso di fronte alla parola ed ecco che questa parola ti parla come vi ho detto è Pietro che bussa il mio cuore è il Papa che mi vuole dire qualcosa che vuole essere ascoltato quindi semplicemente non è un atto chissà che cosa è la ripetizione dell'episodio della scena della parola per me è vivere Cristo Pietro che bussa e altri te le ripeti ti entrano come eco nel cuore poi metti la tua vita basta poi fa il Signore e tutto il resto vai Roberto ah già le oste moltiplicate già è vero è vero anche noi nella nostra piccolezza abbiamo un fatto singolare nella nostra esistenza dunque noi siamo dieci sacerdoti uno di questi si chiama Doroteo anche lui ha cambiato nome il nome di Doroteo di Gaza va bene a Ragusa abbiamo la comunità in Sicilia abbiamo la comunità dei laici consegrati un giorno il padre Doroteo va in visita alla famiglia di Ragusa come faccio anch'io eccetera venerdì sabato e domenica per tornare su aveva mi sembra l'aereo lunedì sera allora lunedì gli avevano organizzato una messa al Carmelo di Ragusa dove c'è madre candida dell'eucaristia non so se conoscete questa è beata la conosce il corpo lì è beata noi ogni tanto quando andiamo a Ragusa c'è la beata lì vado a Doroteo era un lunedì mattina ora le suore fanno il calcolo sui abitudinari dei giorni feriali giorni feriali c'erano fate conto dieci persone quindi loro mettevano ordinariamente l'ostia è grande dieci ostie piccole poi quelle per loro eccetera quei giorni lì sapendo che c'era anche il padre Doroteo con qualcuno forse della comunità dei figli di Dio misero un pochino di più fate conto adesso i numeri sono questi misero venti ostie va bene venti ostie piccole nel tabernacolo però c'era solo l'ostia magna c'era solo un ostia l'ostia è grande però loro misero le ostie da consumarsi durante la messa arriva il padre Doroteo comincia la messa dopo un po' a messa iniziata arriva il gruppone della comunità con amici e conoscenti eccetera almeno 40 persone si siedono tutte allora la priora da dietro dice la sacristana bisogna mettere più ostie la sacristana dice non ce ne sono più abbiamo finito le ostie pensavamo doveva prendere oggi pomeriggio ci sono solo quelle dieci allora la priora dice spezzerà però come fa il sacerdote durante la messa a capire che nel tabernacolo c'è solo l'ostia magna perché noi quando andiamo a dire la messa alle suore non andiamo mica a contare quante ostie ci sono supponiamo che che siano loro che preparino le cose allora la priora fa va bene allora preghiamo la nostra beata che che moltiplichi le ostie questo lo disse lei ma al di là di questo la cosa interessante fu che padre Doroteo con queste venti ostie dopo che le aveva consacrate va a comunicare la gente c'erano più di 40 persone quindi a metà avrebbe dovuto finite metterli andare a vedere il tabernacolo e accorgersi ahimè che non ce n'erano venti ostie 40 persone comincia a distribuire tutti e 40 fanno la comunione lui tranquillo tacati 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 come finisce cosa fa va con la con la piste che aveva in mano nel tabernacolo apre la porticina e butta dentro le ostie avanzate le suore sono rimaste appena finita la messa sono andate a contare le ostie ce ne erano 36 allora vuol dire che padre Doroteo con 20 ostie ha comunicato 40 persone e ne ha avanzate 36 sono moltiplicate cosa hanno fatto queste suore hanno bloccato tutte le persone lì hanno fatto subito una deposizione subito hanno preso nome cognome eccetera poi sono andati tutti via e hanno avvertito il vescovo il vescovo ha mandato un suo segretario eccetera per far breve racconto hanno istituito una commissione perché bisogna poi vedere se è vero istituito una commissione la commissione diocesana ha chiamato tutti ha fatto giurare alla suore sacrestana che dentro non ce n'erano che non c'erano 36 ostie hanno fatto tutte le cose e hanno riconosciuto il decreto guardate che non è facile perché mettono sempre i bastoni tra le ruote giustamente perché bisogna vedere se è un vero miracolo tant'è che io ho detto ma Doroteo ma tu non ti sei accorto che mentre davi le ostie questi qui ti crescevano in mano no non me ne sono accorto il personaggio un po' la testa fra le nuvole diciamo come tipo ma non se ne accorto forse anche la cosa migliore lui ha dato le ostie così e poi le ha messe lì nel tabernacolo il miracolo delle ostie moltiplicate a Ragusa è stato riconosciuto dalla commissione diocesana di Ragusa e adesso è stato ed è passato a Roma c'è proprio c'è la fotografia col vescovo con tutti sapete cosa ho fatto io un anno dopo toccava a me andare a Ragusa alla visita cosa ho fatto voi dite che come dire ieri avete fatto ho fatto una cosa simile anch'io vado a Carmelo di Ragusa mi sono fatto prestare una valigetta 24 ore vado alla Carmelo di Ragusa suono e dico sono il padre generale della comunità dei figli di Dio vorrei parlare con la priola ah bene vado lì metto la valigetta 24 ore lì serio e dico senta madre noi siamo veramente gioiosi diamo l'odio a Dio miracolo delle ostie moltiplicate però e devo dirle una cosa perché appunto quella lì è beata il miracolo la fa passare a santa potenzialmente noi riteniamo che il miracolo sia da attribuirsi ad un Divo Barsotti sì perché il sacerdote ne era della comunità dei figli di Dio sta qua ma no e dice noi abbiamo privato la nostra beata per dico sì sì sono d'accordo però non può negare che era padre Doroteo della comunità dei figli di Dio Dio è in processo di beatificazione stiamo aprendo la causa quindi noi abbiamo buoni motivi per ritenere che sia da attribuire a voi questa è sbiancata completamente ancora un po' mi sviene e mi dice ma no ma questo noi abbiamo pregato la beata qua ma noi stiamo pregando per Dio Barsotti i toni cominciavano quando vedi che questa cominciava ad agitarsi ma no madre è uno scherzo non si preoccupi ma non preoccupare ha fatto proprio così dopo era contentissima e parlava di tutto nel salutarmi mi ha detto il prossimo miracolo ve lo diamo a voi dico no madre lasciamo per se succede un miracolo tenetevelo a voi questo per dire però ho voluto fare un po' questo piccolo piccolo scherzo alla madre siamo ben contenti se il miracolo certamente l'attribuirsi alla madre candida dell'eucaristia però devo dire io sono stato contento che questa cosa sia avvenuta per le mani di un sacerdote della comunità dei figli di Dio sull'eucaristia perché anche questo è il nostro forte Dio Barsotto che mi ha detto piangeva quando diceva la messa un suo figlio un spilungone alto due metri che adesso è in Australia attraverso un povero piccolo strumento la gloria di Dio e la santa candida dell'eucaristia allora ricordatevi se un domani la beata candida dell'eucaristia verrà fatta santa sul miracolo delle oste moltiplicate sappiate c'è anche un peccetto di comunità di figli di Dio modestamente sappiatelo questo è veramente una cosa che ci ha tanto allietati ci ha veramente fatto felici